Sì, sì, preoccupato. Ho avuto un dubbio approccio. Che? Se l'avessi... Se un buco in quella porta... Il pallone? Allora, un pallone? Il pallone è la gara. Grazie. Quella lì. Sì. Grazie. 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 Cristo. Amri. Amri. Alla Scianaro. Remember. Costi. Perro. Morimo! Morimo! Rana! Rota! Rota! Arriva qua! Dai ragazzi di fuori, dai, dai! Vai! Vai, vai, vai! Fai dare Morimo! Fa andare! Ciao Mancio! Ciao Mancioro... Matti, bravo Michi, Matti, dentro, bravo, così, Michi, puoi altarti leggermente, leggero, non troppo, sempre con riferimento. Mancio, ci sei, Mancio, ci sei, bravo Andri, non fuori. Sarò, sarò! Lorenzo, se abbiamo spazio, meno possibile dietro, ok? Bravo, 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 bravissimo! Dai, dai, Cristo, dai, Cristo! Arriva, arriva! Sì! Mancio! 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 Lega, lega su Marino, sennò è qui in mezzo a tre! Guarda! Matti, Andri! Andri in posizione! Andri! Andri, Andri! Sì, non negli ultimi cinque, ok, però dopo ricordati che c'è qualcuno dietro! «I muoio, ci sei, i tuoi d'oro »Vai, darvi! — Cristo! Vamo! 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 Vediamo! «Viva, giva! Viva! Pizzai! Sì! Ancora! Dai! Caricò! Via! Dani, Dani! Dani, Dani, Dani! Bravo! Bravo, Dani, Dani, avanti dietro, Cristo! avanti dietro avanti fai correre Pedro no no Pedro non chiudemi non chiudemi qua faccio a posto Michi Gando Andri Andri è perfetto Andri è buona la tua sali oh l'are 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 vai vai venga ok ok attento Gando Gaghiba attento Gando è di Baudo gioca Mari in avanti Mari in avanti quel controllo va bene Mattia va bene Mattia in avanti perfetto dai 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 a posto Michi non troppo Michi non troppo siete bravi Michi inizia a prive non troppo Pedro via Michi via Michi via Michi dai Tara dai Tara dai Tara si oh Mari no no fai il controllo in avanti stai attento Mancio troppo in là guarda fai bravo bravo Cristo chiamo un po' Andrea non marca nessuno Andre posti abbassa posti abbassa eccolo dai andri e posti siete vicini fate lo stesso lavoro andri vieni più dentro oh basta Michi eccolo Mari Mari non marchi niente non forte Andre Andre in quella zona lì non è deciso l'attacco non puoi sempre prenderla eh ibracal mamma apriti là dai 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 posti scivola russa un po' dentro Cristo non ti appiattire Cristo non ti appiattire con la linea stai alto bravi raga bravi andiamo attivi Cristo c'è la buca dietro il trino Dani 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 sei dai dai guarda come va il 4 e guarda come va Momo ragazzi lo vedi lo vedi dove è la differenza lo vedete dove è la differenza dove è andato il 4 e come è andato Momo è normale che poi non arriva neanche Cristo quando vai indietro però dopo stai attivato devi mantenere la posizione non puoi schiacciarti nella linea è normale che la palla che giocano sotto ruota ruota dentro chi vai sì sì perché non scarichi ma Momo 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 stai dietro stai dietro bravo Albi come prima facci venire di qua staccaferro staccaferro che passiamo dai dai oh Lorenzo oh Lorenzo vanno lì dai stai dietro ok arriva arriva continu dev continu internet sali sali chiesa stai al posto di verklady mamma attento Momoo! 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 Tempi! Tempi! Non hai la palla nei piedi, sei già partito! Che la dare Albi? Ehi! 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 Pedro, non fermarti! Ehi! Ehi! Bravo Momo! Dai! Dai Dani! Dai Dani! Bravo! Dai Pedro! Posti! Posti! Bravi! Bravi! Non tolgo il controllo di merda! Bravi! Russo! Aspetta! Vai dentro! Dov'è Florea? Flo! Oh! Tara! Tara! Spingi Flo! No! No! Non cosa fate in due così? Vai salala! Vai salala! Sono due! Di Pedro! Dai Pedro! Solo! Solo! Tretti! Attaccalo però Pedro! Quanto ti andranno indietro! Come fa? Quanto ti andranno indietro! Dai 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 dai! Alza alza! Salori! 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 Sono in due! Salà! Salà! O ce n'è uno dietro! Rana! Salto! 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 Va bene! Bravi! Bravo! Bravo Daniel! Ibra! Non sempre! Si! Non capire! Di guardare... ...O non portare tutti! Non portarlo eh, non portarlo eh, non portarlo Mammo corri corri corri, mammo dentro Bravi, si Michi, si Michi, si Michi Ok piano, piano ora, piano Flo, 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 Flo Dai, 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 dai la seconda Bravo Mancio Ti va, aspetta da andare Se no prendiamo la palla ancora di prima Le marcature, Ferro No, dai No, là Continua, stave Stave, vai, stave Russo Ebra lì, non ti fa male, narutri Continua, narutri Andri, è spazio È spai Lascia Dai, Gando Regola, regola Tira Tira Atento Entra Entra Ma, c'era! Gara, dai, coraggio, dai! Dai, dai, manda! Dai, 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 dai! Dai, 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 dai! Oh, oh, Ibra, Ibra! Stiamo giocando, Marciola! Perché? Vai di là se deve fare tan tan! È normale! Gianlu, capito? Ma come fa la valla è qua? Ho visto su che c'è la stanza? Donny, Gianlu! Tacca la porta, attacca la porta a chiesa, chiesa! Bravissimo di là! Bravissimo! Bravissimo di là! è di nuovo quella Pedro attivo mancio mancio bene secondo palo con calma con calma apri mari salta rouge Cristo calmo calmo sono di qua i due gialli vieni mari vieni mari a corcia mari bravo Cri a cura a cura a cura fuori 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 Michi stai dentro stai basso Cristo stai vieni lo metti Dai Flo Matti vicino Matti vicino Ruota in linea Matti Mangia attento Vivi là Dai sali Piano Momo Questa è una palla di uno che deve giocare Piano Oh Matti va bene va bene Matti è rimasto laterale Inizia a stare dentro Perché siamo così Ok con quello Con quel tuo Ma perché siamo così staccati Bravo Pedro Pedro al posto di Momo Arriva Pronti pronti Cosa fai là Diti cosa fai lì No non è una preventiva quella Mamu Un'altra energia Mamu 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 Dai Pedro Pedro Non mi piace quel tipo di messaggio là Dai parla con lui Basta punto Mamu Non devo fare del cinema No 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 Non c'è tezzo 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 Vieni me Dai 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 Torna 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 Tutte due Dai Vai Vai Batti veloce Batti veloce Vai Vai Narudri Con lui Oh Mangio però se decidiamo questa cosa perché non salite e vi accorciate lì e mettono nella metà campo entra fatti portare fuori danna veloce dai dai non avete paura dai dai mici piano dai mici dai dando bravo io stessa vai dritto dritto guida guida sta con lui giocca uomo uomo spiro scrivola scivola 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 dai mari dai mari via oh Mari è girato forte dai su cara sei timido quando ve la palla cara Mancio Mancio ma mi vuoi portare qua quella palla mi porti qua Bladi sta dentro sta dentro Bladi stai aperto stai aperto stai aperto dai forza venire dai 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 Michi dai ma la con la palla gli difende poi deve tornare qua dai Michi va bene piano dai apri muovi la dai dai flow dai in avanti a posto Bladi dai scappa venga di là gioca apri Mari dai dai è qua è qua è qua deve tornare ancora di qui oh cos'è che avviene l'aria capito cosa c'è tarantola cosa c'è gioca non me ne prega niente gioca gioca vieni Cristo vieni Cristo andiamo vai accadầ . pedro pedro dai fermiamo arriva arrivo 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 carico tutto lo fai così forza non vengi sì è qua altra vengi 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 tornare i vengi وس retir gi Gul Daniel, più dentro, più in side, more in side, more in side, Daniel, more in side, questa, more in side, dai! Gioca in avanti! Gioca! Vai, Momo! Bravo, Mancio! Sistemi avanti! Senza ballo! No! Pronto, pronto! Come arriva? Come arriva? La seconda! Vieni, vieni, alza, alza, Vladi! Alza, Vladi! Fuori, Gialu, fuori, fuori, da lì, Gialu, fuori! Continua, Vladi, se torna! Vado a scoppiare, sta cosa! Sì, vado a scoppiare, nel cazzo! Ti chiedi su! Vai, vai, vai! Sali, sali! Non ti stai, non ti stai! Sì! Vado! Vado, vado, vado! Vado! Vado, vado! Vado! Cazzo! Sì! Dai, stai dietro adesso, Momo, tu dietro! Miko, more inside, did you see this ball? Oh! Daniel! Ok, ok! Dai, Daniel, inside! Inside, now! Via, bravo! Bravo, Michele! Allungate a me! Bravi! Non troppo! Daniel, inside! Non inside! Dai! Dai, Daniel! Via! Vai dentro tu, vai dentro! Dai, Tara! Vai dentro! Dai! In avanti, Anni! Dai! Sì! Ma perché Tara, anche l'uomo girato di schiena si è staccato? Gira! Gira! Perché si... Sali! Perché si è staccato? Ok! Sì, ho capito, ma poi dopo c'è un altro avvocato! Salto! Salto! Via! Via, Dani! Via! Via, Maga! Sì! Mamù, 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 mamù! Vai dietro, dai! Stai a far vigile, stai a far... Scusa, scusa! Vieni, 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 vieni! Vieni, vieni, vieni! Anche lì, vieni! Proteggi, vieni! Attaccati! Mamù, mamù! Scusa, scusa! Dai, dai! E come arrivi, è come arrivi! Dai zitto! Scusate che non lo scopri, questo! Non lo scopri, voi! Non lo scopri, 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 non lo scopri Arriba, arriva! Arriba, arriva! Dai, ci pensi troppo, cazzo. Dale! Come sta? Dai, raga, dai. Compri dentro, lì, cazzo. Non arriva, non arriva, non arriva. Cazzo! Vai più dentro, vai più dentro, rana, non arriva lì. Vai più dentro. Forza, forza, forza! Arriva, arriva! Arriva! Alza là di prima! Dai di là! Supera dentro! Ciagonale! Arriva, non arriva l'altro, cari! No, no! Dai, 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 dai! Stai dentro, stai dentro, rana, stai dentro, stai dentro, cari! Stai dentro, stai dentro! Ah, ci allunga! 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 Omo, omo, porta il gatto! Omo, 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 omo! Omo, 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 omo! Omo, 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 omo! anche senza che li passi davanti! portando in passi! ehi! dai! dai! anche lunga linea! non ti entra! e quello tu hai? bravo! bravo lì vladi! vai con lui vladi! vai con lui vladi! dagliela! vai con i raghi ancora! nostra! bravo bravo! guarda! 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 dovete identificare i livelli delle partite Antonio sto cercando di pulire la parte. lascia ora! bravo! manda subito! manda subito! bravo! bravo! la vladi costante! Lorenzo, ma ti vedo No, perché la palla è qua Siete troppo lontani Venite qua Si devono aiutar loro Mancino che assorbe l'undici Qual è il problema? Qual è? Dai veloce! Dai! Qual è? Gira! Gusto sei troppo schiacciato Vieni! Bravo amico Gusto, non troppo là Dai, dai Michi Dai Gando Dai Tana Eccolo lì Non è fuori Non è fuori gioco perché hanno tre linee Mancino Tarà Quello non va fuori perché Mancino è troppo staccato rispetto a te Mancino la palla di là, tienila Sei lontano ma a Tarà adesso da Mancino Dai Eccolo, dai G Madam Degri Degri Eccolo Eccolo Dentro di bordo! Dentro di bordo! E' anche perfetto. E' anche perfetto. Cari i cani di qua. C'è bisogno che ti chiamo ogni volta. Mancio! Dimelo! Mancio! Ma quando si butta il set? Cosa fai ancora? Mancio! Cosa fai con la palla che il set è andato? E' fuori da Tarantra. Una linea con lui. Palla laterale. Quella di prima. Palla laterale. Palla laterale. Ma sì! Palla laterale. Chiudo l'alto. Chiudo l'alto. E glielo di sciamo. Si stai a spazio. A due lì. Arriva! Alza! Alza! Vici! Vieni! 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 Ora ho pulito! Dai avanti! Bravo! Dai mangio! Arriva! Dai dai! Arriva! Ancora! Amma! Continua! Dai Marino, dai Marino! Dai Marino, dai Marino! Dai Marino, dai Marino! Dai Marino, dai Marino, dai Marino! Dai Marino, dai Marino! Dai Marino, dai Marino, dai Marino! Andiamo, andiamo! Mammo, prendi! Bravo Mammo, ancora! Dai Chris! Manda! Dai! Dai Marino! No! 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 aiuta adesso! Momo aiuta verso l'arbitro! Ok Momo? Attento Chris! Non ti schiacciare! Tarantola! Andri! Andri! Andrea! Hai preso 100 calci ma perché vatti veloce? Calmo! Non mi piace! Vieni! Va bene Momo! Michi non stare fermo! Bravo! Ok piano! Insider! Micho! Micho inside! Vai! 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 Più veloce! Ok! Vieni! Visto! Ancora con Mana! Non portarla! Davanti! Davanti! Vai Pedro! Così sei lontano! Dai! 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 Dai a mettere! Dai a mettere! Bravo! Ancora Andrea! Vai questo! Vai lunga! Vai lunga! ok dai bravo pedro posti dai con calma dai bravo vuol dire che mancini stanno facendo una copertura di 5 metri a tarantra fino a palla laggiù con la mano ai carini ok porti porti tagli dentro, porti tagli dentro, porti a destra vai, tanca senza andare fuori gioco, tanca la probabilità e non andare... il piano in mezzo, sezione mala è arrivato, un po' proprio sulla mezza è arrivato il blocco abone, 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 abone spinnati a unJoarsmendore si ti preoccupare Guarda che passa, guarda che passa il gol. 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 Dai Daniele spingi mamma, mamma spingi, mamma sotto, sotto, Pedro sotto un po', sotto, eh, basta! Veloce, devono aiutarsi in questa cosa qui. Dai, dai, ancora ferro, ancora ferro, ancora ferro, veloce, veloce, guida ora! Dai, dai, lì sotto, alza chi, alza chi, alza chi, alza chi, alza chi, alza chi, alza chi! Sì, Michi, sì, Michi! Dai, dai, piano, Cristo, frena ora! Dai, Michi! Mari, Mari, però appena uno si gira devi andare, stai, rinculi sempre, questa è la palla del sette! Dentro! Via, Michi! Dentro al congando! Bravo, Momo! Piano! Piano piano, stai in side, piano piano incomincia, vieni, bravo Russo! Flo, 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 aiuta! Stantino, per lo Cristo, è quello che non dobbiamo fare, dai! Bravo, Mari! Bravo, Mari! Stacca, Mancio, davanti! Mari! Dai! Dai, Chris! Fandare! Bravo! Bravo! Buongiorno! 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 Grazie. 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 ui. Grazie. Grazie a tutti. 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 Luca, Luca. 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 Grazie a tutti. 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 bravo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Luca. Grazie a tutti. 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 via. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Davanti. che palla. dietro? vediamo. Cristo. Cristo. vai vai vai. vai 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 bravo Michi tirati dentro Pedro dentro Luca la prossima vieni Luca sul centrale via Luca Pedro bravo dai Luca dai Luca dai Luca via Luca via Luca lascia la Cris lascia dai 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 lo prendiamo noi Luca a fuori dai bravo Marti vai 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 Vladi 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 devi andare se vai con la velocità lì non serve a niente dai Cristo dai Pedro vinci questo duello si a corsa a corsa Gando si bravo mica ancora ripropongi eccola lì la corsa dove è la corsa dove è Gano scatta qui scatta dai fai 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 alza mala direzione ma come si fa via via Luca vai Luca non andare fuori gioco l'unica cosa è quella poi attacca la porta attacca la porta vai Vladi che arriva bravo Gris con calma Flore Flore ti faccio un po' dai metti la palla metti la palla signore visto cambio cambio dai cambio dai dai veloci signore vabbè vai a fare il fatto di sinistra quello che hai fatto da piccolo sei il secondo in battuta sugli angoli per noi sei il primo della seconda linea soltanto sempre in seconda linea per le punizioni in barriera non ci sei sette 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 sedici sette otto minuti prepariamo il tuo incanto dai mala dai mala dai mala dai mala dai mala marzo accorcia Lore Lore sei quarto via via pedro vai 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 non entra non entra pedro si e Nico mancio gestisci la tua gara ok i comunosi devono esercizare avanti a marino si ce l'abbiamo salio mancio sei davanti a marino eh no ma non è sempre presupposo non ci stiamo sempre e gestisci la tua gara se fai col cazzo vado non mi chiedere con te non ti chiedere con te non ti chiedere con te non ti chiedere con te marca ma la spina le spalle 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 bravo bravo dentro bravo no mancio 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 no dai presi vieni dentro no fuori 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 l'ore via fai battere Andri l'ore vieni qua sei fresco percorrere c'è già vieni qui che c'è già vieni qui 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 dai in aria dai in aria uno non mi piace aspetta Mari flo flo no era da aspettare non ero da girare arrivo flo facile facile flo metti la metti la flo bro equilibrio bravo 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 mancio lore lore se vai dentro quella lì era buona mancio come prima appena arriva morbida oh lorenzo lori 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 tara e non arrivi mai eh ho capito cazzo cazzo ha battuto lorenzo era ancora al limite nell'aria voglio sentire un cazzo eh pedrini oh l'affarisei arresta tanti dovrebbe essere consentito a spingere per favore è troppo evidente per non vedere eh lo so oh lorenzo lorenzo signore signore è troppo evidente quella spinta in area raggio ma perché no se no la pinta no la sua traiettoria ma la allora l'hai vista ma l'hai valutata male sigla 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 dai sigla siglo vai dai 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 te l'ho spiegato adesso dai no te l'ho spiegato adesso come funziona dai si è partito dai 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 f***e sono sotto di due dai dentro dara dentro fermi vamo vamo bravo 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 Vai a sultare lì, vai a sultare lì, vai a sultare lì, ma non le sento dentro le cose, vanno a sultare. Il calcio è una cosa seria. dai mangio ancora sali bravo Lore, bravo Lu, bravo Lu, dai dai raga Davanti Luca gioca due Macho non scappare Pedro, sali piano Pedro dai arrivi Michi, si arriva Andri, dai salta con lui Cambio, cambio Sto facendo il rilascio, non ha detto il numero 10 Buongiorno, buongiorno, dai, combinate Uscito già di là Uscito già di là Vatti, vatti i tuoi Dai Tommy, dai Tommy Vai Chiazzu, vai Chiazzu, vai con lui Bravo Lore, bravo Lore Dai, dai, bene Chiamate la palla Mettila bene Ceco, devi andare dentro Ceco, ceco Anche se la muovono sul terzo Di fianco a Castal, ceco Con Castal Di avanti, di avanti, di avanti Bravo, bravo Bravo, bravo Aperto, è pronto ad andare Pronto ad andare Bravo Lore Bravo Lore Entra, ceco in area, ceco Ceco, va dentro Vai Vladi, vai dentro Vai dentro in area Vladi Dai, dai Luca, prendi qualcosa Dai Luca, dai Luca Dai Vicky Aspetta, aspetta Bravo, bravo Bravo, bravo Dai, dai, dai Marti, metto più lì, è pronto ad andare Dai, dai Dai, dai Dai, dai Vabbè, vabbè Vabbè Ci siamo Vabbè Non riusciamo più a servirti Vabbè 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 Chi va per andare di là C'è troppo Un fracco E questa Aiuta Luca Vai Vai Non all'indinco Vai Vai Pedro Veloce Di là Venoce Di là Dai 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 alto vai male vai anche dentro vedrini mezzani che fa il dolcezzino vai vai Gesù vai Gesù vai che tu che tu stai aperto vai 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 Flavio sei lontano dalla palla Flavio gira vicino a Marti gira vicino a Marti vai 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 Ora, ora, ora! Ora, ora, ora! Posti dietro! Non sfrittare con Flo! Dai, Luca! Solo! Dai, Luca! Ancora, Lucchino! Sì! Dai, dai, perlora, forse da mettarci! Dai! Non vuole girare! Bravo! Bravo, bravo! Gando! Gando! Dai, Luca! Dai, Luca! Dai, Luca! Dai, Luca! Buono! Vieni là! Vieni là! Va bene, Michi! Va bene, Michi! Dai, dai, dai! Dai, Luca! Vieni, vieni! Bravo, Lore! Vieni, batti, vieni, batti! Vieni, Flo! Michi, non troppo! Michi, non troppo! Sì, una voce, Luca! È tua, è tua! Lavora in linea, lavora in linea! Menzo ce l'ha le spalle! Vai dentro, però, se la palla è di là! Bravo, Marti! Dai, dai, dai! Stai alto, Gianlu! Stai alto, Gianlu! Gianlu! Vai alto! Pala, metti così davanti! Non lo fa! Vieni! No, no, lascia andare! Andri! Bravo, bravo! Vieni, 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 Vieni! Vai, 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 vai! Perché è quello che si tratta di un'ora, perché è quella cazzata di un'ora, ma non nasce dalla cazzata! Ma dove nasce? Ma non lo so, ma è to' sei! E' 5 più... E' l'ultimo momento! Dai, dai, dai! Stai vicino, stai vicino! Stai veloce! Stai vicino! Gira di, gira di! Pronto, Davide? Pronti, oh, pronti! No, dai, dai! Non so schiacciarti troppo, un mezzo! No! Dai, l'altro, Cecho! Ci siamo! C'è coperto! C'è coperto! C'è coperto! Ti faccio! Sì! Sono davanti! Luca, prendi! Luca! Dai, Lucchino! Apri, Cecho! Bravo, Lorenz! Dai, dai, Menzo! Dai, Menzo! Accompagna tu, accompagna! Dai, Luca! Sì, Michi! Vai, Michi! Vai, Michi! Vai, vai, vai! Vatti pronto! Vatti, presto! Dai, cara! Dai, Luca! Sponca! Niente, non è toccato! Stai vicino! 2 metri, Abbi! Stai, vedi qua, l'Aeva! Marino! Marino! Martino! Martino! Stai lì, Martino! Stai lì! Slocro! Succhi, è giù! Alcorcia! Vai, Lore! Alza! Alza la lina, Mancio! Andri! E' dietro! Vieni a giocare! Vieni a giocare con la mano! Dai! Dai, letto! Ma che coscienza sbagliata! Vieni, vieni! Alza! Alza, ma stai qui, Mancio! Stai qua, non stai dentro! Stai qua, Luca! Alzati! Flo! Flo! Dai, Luca! Dai, Luca! Dai, Flo! Dai, dentro, Ferro! Via! Vieni, da qui! Via, Menzo! Ehi! Dai, Luca! Noi sentiamo lungo! Dai, dai, Menzo! Dai, Menzo! Dai, Menzo! Adesso la devi mettere in profondità! Vai! Campi, la deve dal profondo! Viamo! Via, Mancio! Via, Mani! Oh, oh! Stai finito! Oh, bravo! Stai dentro, stai dentro, bacchi! Rimani dentro! Luca, Luca! Brava, Luca! Bravo! 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 Così, stretto qui! Stretto qui, stretto qui! Attivi tre, attivi tre! Attivo, Benz! Davanti! Davanti! Uno, due, ci mandano! Bravo! Bravo! Arriva, Mari! Mari! Mancio! Mancio! Mandalo via su queste palli! Merro! Quello andiamo a riprendere! Malà, malà! Faccio il ferro! Salve! Guarda! Salve! Calma! Vai, vai, vai! Muota, muota! Val al posto di ferro! Vai! Giallo andiamo al giugorio! Vai! Mandalo! Tieni! Tieni! Mezzo, falla stare a meno in campo Zitti, eh Dai Luca sotto, basta Luca Dai lui Sì, rimbalza con lui Ancora Ok Bravo, dai Luca Amici Tira, avanti Basta Basta Basti occhio qui Dai Luca, vai dentro Vai in area Vai in area Vai in area Aperto Aperto Basti, apri Via, 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 via Via Canto, via Libra 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 Alla fine Stretto, stretto, stretto Sì Luca, sì Luca Non lo far calciare Non lo far calciare Vieni Marcia Grazi Grazie Lory Grazie Grazie Ehi! Ehi! Grazie!